Per noi dell'ente carnevalesca è un vanto, è un orgoglio, da tanti anni volevamo superare i mille e li abbiamo superati. Chi ancora non è socio lo può fare tranquillamente domani sera, perché proprio per l'occasione sotto il pupo del bugiardon sarà allestito dei vari tavoli per raccogliere ancora adesione all'ente carnevalesca. Un avvertimento ai mille soci e passa, domani è l'unico giorno, l'unica serata dove potete ritirare gratuitamente la t-shirt, la maglietta fatta apposta per l'occasione. Mi raccomando portate la tesserina, solo presentando la tesserina potrete ricevere gratuitamente la maglietta e il coupon per una bevuta gratuita che gentilmente gli esercenti del centro storico offriranno a tutti i soci dell'ente carnevalesca. Quindi mi raccomando tesserina portata di mano. Sotto il pupo che farà da riferimento per la prima volta un carro nella piazza 20 settembre sarà il punto da dove distribuiremo le magliette, poi a un certo punto della serata grazie alla pasticceria Guerrino torta gigante per i mille soci, arriveremo dove arriveremo, comunque una dolcezza per tutti. Bagutti dalle 21.30, la grande orchestra italiana Bagutti con un grande spettacolo, piazza Settembre dalle 21.30 per tre ore. La caserma, il parcheggio della caserma per l'occasione rimarrà aperto fino alle tre di notte quindi potrete tranquillamente parcheggiare là, per chi può venga tranquillamente a piedi, usate le bici mi raccomando, nessun mezzo compresa la bici in piazza proprio per lasciare tutta la piazza completamente libera per le migliaia e migliaia di persone che affoleranno piazza Settembre domani sera. Voglio ringraziare pubblicamente il nostro comune di Fano e la regione Marche che ci hanno aiutato a rendere così bella un programma degnitoso per la festa dei mille soci ma soprattutto la festa del Carnevale di Fano che vogliamo festeggiare con tutta la città di Fano e non solo, invitiamo anche tutti i turisti che si trovano lungo il nostro litorale da Pesaro fino a Marotta, nessuno escluso. Tutto completamente gratuito.